Sacramentum Caritatis di Benedetto XVI Nel sacramento dell'altare, il Signore viene incontro all'uomo, creato ed immagine e somiglianza di Dio, facendosi suo compagno di viaggio. In questo sacramento, infatti, il Signore si fa cibo per l'uomo, affamato di verità e di libertà, poiché solo la verità può renderci liberi davvero, Cristo si fa per noi cibo di verità. Con acuta conoscenza della realtà umana, Sant'Agostino ha messo in evidenza come l'uomo si muova spontaneamente e non per costrizione, quando si trova in relazione con ciò che lo attrae e suscita in Lui il desiderio, Domandandosi allora che cosa possa ultimamente muovere l'uomo nell'intimo, il Santo Vescovo esclama che cosa desidera l'anima più ardentemente della verità. Ogni uomo, infatti, porta in sé l'insopprimibile desiderio della verità, ultima e definitiva. Per questo il Signore Gesù, via verità e vita, si rivolge al cuore anelante dell'uomo, che si sente pellegrino e assetato, al cuore che sospira verso la fonte della vita, al cuore mendicante della verità. Gesù Cristo, infatti, è la verità fatta persona, che attira assai il mondo. Gesù è la stella polare della libertà umana. Senza di Lui essa perde il suo orientamento, poiché senza la conoscenza della verità, la libertà si snatura, si isola e si riduce a sterile arbitrio. Con Lui la libertà si ritrova. Nel Sacramento dell'Eucaressia Gesù ci mostra in particolare la verità dell'amore, che è l'è stessa essenza di Dio. E' questa verità evangelica, che interessa ogni uomo e tutto l'uomo. Per questo la Chiesa, che trova nell'Eucalistia il suo centro vitale, si impegna costantemente ad annunciare a tutti, opportune, importune, che Dio è amore. Proprio perché Cristo si è fatto per noi cibo di verità, la Chiesa si rivolge all'uomo, invitandola ad accogliere liberamente il dono di Dio.